Si rimetta all'aula la relatrice Cicel. È aperta la votazione. Fabri, Ciprini. Ciprini, tutti qua a posto? Aspettiamo questi due colleghi. Pili e poi chiudiamo. Pili e poi chiudiamo. Via. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 5. È aperta la votazione. Bolognesi. Bolognesi non riesce a votare. Fontana Cinzia. Crom-Bickler. Crom-Bickler. Un attimo e poi ci siamo. Non gli risponde. È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo all'emendamento aggiuntivo 5.01 Toninelli. Se nessuno chiede di intervenire lo metto in votazione. Parere contrario. Commissione, Governo e relatori. Scusate ma qui c'è il relatore Forza Italia. Favorevoli relatori 5 Stelle e sì. È aperta la votazione. Ci siamo? Giulietti. Di in cecco. Ci siamo? Sì. No, Giulietti no. Giulietti sblocchiamo.